Glam Ristorante e Disco, Via delle Caserme Corso Mantone 88, Pescala Vecchia, apertura estiva, fast food, aperitivi cenati, slow food con antipasto Glam, arrosticini fatti a mano, braceria, vineria e birreria. Glam, firma ogni evento, il tuo compleanno, la tua laurea o ciò che vuoi. Glam Ristorante e Disco, Via delle Caserne Corso Mantone 88, Pescala Vecchia, info e prenotazioni 340-79-78-090 o 331-4868-787.